Quota 100, la riforma del sistema pensionistico contenuta nel decreto approvato il 17 gennaio dal Consiglio di Ministri, è ormai in realtà. Dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento voluto dal Governo, l'Inps ha infatti dato comunicazione delle modalità per l'invio delle domande al fine di accedere al pensionamento anticipato. Al nostro microfono il direttore dell'Inps, Alessandro Romando, da pochi giorni è entrato in vigore il provvedimento quota 100. Quanto interesse ha destato? L'interesse è forte, già lo registravamo prima che fosse emanato il decreto, c'era tanta gente che veniva a informarsi, abbiamo aperto uno sportello specifico proprio per rilasciare gli estratti conto perché la gente voleva verificare se aveva i 38 anni e abbiamo fatto molte consulenze. Da quando è partita la possibilità di presentare le domande a stamattina c'erano già, solo per Chieti, senza considerare le agenzie di Lanciano e Vasto, 48 domande già entrate di quota 100. Vogliamo ricordare come è poter effettuare la richiesta, la domanda? Sì, appunto come dicevo già sul sito Inps esiste l'apposita voce di domanda online che tra l'altro è anche proprio indicata come quota 100 per essere più comprensibili anche ai cittadini e presso tutti i patronati che collaborano con l'Istituto è possibile recarsi per poter presentare online questa domanda. Ultimo modo, chiamando il contact center è possibile anche avere la presentazione della domanda. Direttore, a margine di quota 100 ci piace sottolineare che l'Inps di Chieti diventa un modello. Beh sì, in questi giorni già da sei mesi si è avviato un nuovo sistema che ci permette di avere una migliore interazione con i cittadini che vengono da noi, un sistema avanzato di sportellistica che Chieti è una delle sedi che ha sperimentato in Italia e che poi si diffonderà a tutto l'Istituto. Grazie a questo sistema, quando un cittadino viene all'Inps, la persona che lo riceve già ha tutta l'interazione che la persona ha avuto con l'Inps. Si è chiamato il contact center, si è già stato in un altro sportello, cosa è venuto a chiedere e cosa gli è stato già risposto. Quindi non si riparte ogni volta da zero, ma l'utente viene ricevuto da una persona che conosce la sua storia. E questo ci permette anche proprio in occasione di Quotacento di prendere degli appunti su quello che ci ha richiesto il cittadino e magari approfondire successivamente quello che ci aveva richiesto in un momento precedente.